Il Consiglio regionale del Piemonte è al fianco della Polizia di Stato e del CUS Turino in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre per coinvolgere quanto più possibile la cittadinanza, sensibilizzandola su un tema di triste e crescente attualità. Domenica 24 novembre sarà possibile compiere un gesto concreto per dire no ai femminicidi e alle diverse forme di violenza nei confronti delle donne partecipando a We Run for Women, terza edizione, un percorso di 5 chilometri accessibile a tutti oppure di 10 chilometri, competitivo e non, in cui si potrà correre o camminare che animerà le vie del centro di Turino con partenza da Piazza Solferino alle ore 9. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al progetto SOS Sostegno Orfani Speciali che a Torino in Via Nota gestisce il centro SOS, primo spazio in Italia dedicato agli orfani e alle orfani di femminicidio. Per celebrare la giornata contro la violenza di genere il Consiglio regionale ha deciso di dare un aiuto concreto agli orfani di questi femminicidi, molto spesso non ci si pensa, ci si concentra giustamente in prima battuta sulle vittime, cioè sulle donne che ci rimettono la vita, ma dopo ci sono anche i loro figli. Ci sono gli orfani che rimangono da soli senza mamma, a volte anche senza papà che magari è proprio il colpevole del femminicidio e quindi c'è un'assoluta necessità sociale di dare loro una mano. Quella di domenica sarà un'iniziativa che vuole essere Coran Populi, quindi in pratica è un'invocazione a partecipare, sarà per chi vuole una gara, per chi vuole una camminata, ma è un modo per mettere al centro Torino e le persone di Torino contro questo fenomeno e consapevolizzare con un'azione concreta la volontà di voler contrastare questa piega sociale. Io ringrazio tantissimo per questa opportunità perché questi fondi sono destinati ad aiutare concretamente orfani e orfani da femminicidi e le loro famiglie affidatari e adottive. Sono persone che hanno avuto un grosso trauma perché all'improvviso questi bambini, questi ragazzi, questi adolescenti hanno perso in un unico momento sia il padre che la madre e molto spesso si colpevolizzano, queste cose non si dimenticano, ma si chiede di riprovare a vivere una quotidianità un po' più libera, un po' più serena. E noi vorremmo contribuire a questo, anche con delle attività ludico-socializzanti, ad esempio il corso di piscina, il corso di chitarra, lo sport, che riteniamo molto importante per il benessere psicofisico di qualunque persona. Sempre nell'ambito delle iniziative organizzate in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il 21 novembre al Palazzo della Luce di Torino la Polizia di Stato, insieme al Consiglio regionale e all'Ufficio scolastico regionale, ha organizzato il convegno Voci di Coraggio, rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie e superiori. Un approccio dinamico e interattivo per favorire il dialogo e la partecipazione dei giovani. Oltre all'intervento di vari esperti, sarà ospitata la testimonianza di un giovane vittima di violenza assistita.